Ecco, vorrei lanciare, se mi date la possibilità, vorrei lanciare un'idea, questo per i tifosi però, al mio tempo avevamo raggiunto circa 50 club e più di 50, non solo nella città, ce n'erano una decina, però fuori città, nella provincia, altri 40, coordinati dal centro di coordinamento. Io credo che il futuro del calcio in questa città non passi soltanto dalle proprietà, da quelli che investono soldi, che è giusto che sia anche, però passerà attraverso la capacità di far sorgere nei vari comuni dell'Interland, prima dell'Avellinese, poi in altre piene, in altre zone, dove bisogna formare e creare i club sportivi per far crescere i ragazzi e i giovani insieme, per socializzare e non fare eventualmente qualche errore che è pericoloso per la gioventù.